L'ora esatta è offerta da Non perdete un'occasione così, da Stilux Illuminazione le migliori firme sono scontate del 30, 40, 50% Nella grande esposizione realizziamo i vostri sogni con le più belle proposte di illuminazione ai prezzi che non troverete mai più Stilux Illuminazione, ci trovi ad Alessandria, via Galimberti, angolo via Sclavo Ben ritrovati con la nostra informazione, in primo piano torniamo ad occuparci della rabbia e dello sconcerto che si respira tangibilmente a Casale Monferrato e non solo in seguito alle motivazioni della Corte di Cassazione che ha prescritto il processo per le morti da amianto Intanto però si sta già lavorando a fianco del PM Raffaele Guariniello per preparare un nuovo processo Tutti particolari nel servizio di Franco Capone Dopo che la Cassazione ha reso noto le motivazioni della prescrizione del processo per le morti da amianto il pubblico ministero di Torino Raffaele Guariniello sulla vicenda Eternit ha annunciato che la procura piemontese ha chiesto il rinvio a giudizio dell'imprenditore svizzero dell'Eternit, Stefan Smidain L'accusa è di omicidio volontario aggravato per la morte da amianto dal 1989 al 2014 di 258 persone Secondo l'accusa l'imprenditore svizzero sapeva molto bene della pericolosità dell'amianto Le aggravanti ipotizzate sono quelle dei motivi avietti, la volontà di profitto e del mezzo insidioso, cioè l'amianto Solo 66 delle vittime sono ex lavoratori degli stabilimenti Eternit di Casale e Cavagnolo in provincia di Torino Tutti gli altri sono residenti in quelle zone In pratica la Suprema Corte per effetto della constatazione della prescrizione del reato intervenuta anteriormente alla sentenza di primo grado sono cadute tutte le questioni sostanziali concernenti gli stessi diritti e interessi civili e il risarcimento dei danni Ora tutti sperano nel rinvio a giudizio dell'imprenditore svizzero per avere giustizia e non vendetta Il diritto può fare giustizia, ne è convinta il sindaco di Casale Monferrato Titti Palazzetti Anche dopo aver letto le motivazioni della sentenza il primo cittadino ha chiesto che ora il Parlamento dia corso alla priorità delle famiglie e delle vittime e ci impegneremo con tutte le nostre energie per raggiungerlo Le motivazioni della sentenza Eternit della Cassazione sono state pubblicate oggi ma già da ieri il malumore era diffuso Proprio per questo il sindaco di Casale Monferrato vuole pensare al futuro Il nostro combito dice ora è insistere affinché il Parlamento dia corso così come vi è stato assicurato dai presidenti del Senato e della Camera al disegno di legge su un nuovo reato di disastro ambientale Non possiamo continuare ad avvalerci di leggi e codici degli anni 30 del secolo scorso Dopo la sentenza shock della Cassazione Casale Monferrato e i comuni del territorio non si sono arresi e hanno combattuto e combatteranno ancora con più determinazione e permessa per avere giustizia La città ha pagato un prezzo troppo alto in questi anni Sono ancora molte le questioni da affrontare sul tema mianto a partire dalla ricerca e dalle cure per i malati Altra cronaca dai tribunali L'Andrangheta esiste anche al nord Sono state infatti confermate le pene Minotauro La Cassazione ha rigettato la richiesta di un nuovo appello presentata dal procuratore generale Ce ne parla Roberto Monteriso La mafia c'è anche in Piemonte La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dei 50 imputati del processo Minotauro sulle infiltrazioni dell'Andrangheta in provincia di Torino I supremi giudici hanno rigettato le richieste del procuratore generale che ne aveva chiesto l'annullamento e un nuovo processo d'appello Un verdetto molto atteso dopo che il procuratore generale della Cassazione aveva chiesto l'annullamento di 50 condanne e il rinvio alla Corte d'Appello di Torino in quanto a suo avviso non si configurava il metodo mafioso nella condotta degli imputati Secondo quanto riferito da alcuni avvocati per il procuratore non sarebbe emerso il metodo mafioso come richiesto dall'articolo 416 bis del codice penale Per questa ragione ha richiesto che venga fatto un nuovo processo Ma la sentenza gli ha dato torto La Corte, presiduta da Antonio Esposito ha rigettato anche tutti i ricorsi delle difese degli imputati ha disposto un nuovo processo d'appello per due casi di assolazione che dovranno essere nuovamente valutati La sentenza, arrivata dopo otto ore di Camera di Consiglio riguarda gli imputati che avevano scelto il rito abbreviato è la prima che stabilisce l'esistenza di un'organizzazione di Andrangheta articolata in otto locali in provincia di Torino L'inchiesta Minotauro, condotta dai Carabinieri con il coordinamento della Direzione Distrittuale Antimafia aveva portato a 150 arresti nel giugno del 2011 E la prima sentenza passata in giudicato sull'Andrangheta nel nord-ovest Questa pronuncia, ha commentato il procuratore capo Armando Spataro conferma l'eccellente lavoro della DDA di Torino e della Polizia Giudiziaria Domenico Franco Belsito il calabrese ucciso a Tortona sarebbe caduto in una trappola attesa dal suo assassino Lo avrebbe detto un testimone durante il processo che si svolge in corte d'assise ad Alessandria a carico di Alessandro Loiacono, autore materiale del delitto Il servizio di Emma Camagna Fu tesa una trappola a Domenico Franco Belsito il calabrese 52enne abitante a Gavi ucciso a Randellati in un capannone di Tortona il 28 novembre 2013 Lo ha ammesso implicitamente Massimo Viale testimone al processo in corte d'assise a carico di Alessandro Loiacono, 34 anni, Rottamaio autore materiale del delitto e di Antonio De Filippi, entrambi di Tortona che occultò il cadavere nel bagagliaio di un'auto poi trovata all'Umonferrato risponde però di concorsi in omicidio volontario premeditato ha detto il teste, a sua volta occupato nel settore della rottamazione che Loiacono, col quale aveva rapporti commerciali e di buona conoscenza lo pregò di fare una telefonata l'interlocutore era Belsito con cui Loiacono voleva parlare da solo e per essere certo che non mancasse all'appuntamento sia il serviale come intermediario io però neppure lontanamente pensai che lo scambio di vedute sarebbe degenerato e fece la telefonata sola ed esclusivamente a titolo di amicizia, ha detto per l'accusa la circostanza rinforza la tesi della premeditazione per la difesa le cose andarono diversamente e lo testimonia la ricostruzione dello scambio di telefonate fra le parti Belsito fu ucciso dallo Iacono che ha subito confessato durante una lite per motivi di lavoro il primo pare volesse una partecipazione finanziaria nella nuova attività che il secondo intendeva aprire insistenze e minacce da parte di Belsito avrebbero fatto degenerare la discussione prologo del delitto prossimo udienza il 17 marzo per la seconda volta consecutiva i ladri hanno tentato di rubare all'interno del parking bar situato in spalto marengo ad Alessandria di fronte all'ospedale civile il tentativo è fallito perché dopo il primo furto il vetro antisfondamento della porta d'ingresso del locale ha tenuto i ladri avevano tentato di sfondarlo lanciando contro la vetrata un grosso mattone lo scorso 23 dicembre invece dopo aver sfondato la vetrata con lo stesso sistema i ladri erano riusciti ad entrare e a portare via la cassa e la merce esposta ancora cronaca una vera e propria caccia al piromane è iniziata a Novi Ligure dove per cinque volte in pochi anni è stato appiccato il fuoco all'interno del condominio Primavera al quartiere residenziale di Crosa della Maccarina anche questa volta è stata assiorata una tragedia per l'incendio di origine dolosa appiccata al quadro elettrico sono stati alcuni inquilini del primo piano a dare l'allarme e a chiamare i vigili del fuoco i quali giunti sul posto hanno messo in salvo due persone abitanti al quarto piano invaso dal fumo i carabinieri stanno svolgendo indagini per identificare il piromane che ha già incendiato alcune auto posteggiate sotto la palazzina un furgone e un motorino parcheggiati nel garage restiamo a Novi c'è stato un incontro aperto alla popolazione ieri sera parliamo di sanità per presentare ufficialmente l'osservatorio comunale sulla salute un nuovo strumento a disposizione dell'amministrazione guidata da Rocchino Muliere che si occuperà di questioni inerenti alla salute pubblica il servizio di Enrico Marià l'osservatorio per l'amministrazione non vuole essere un comitato in difesa di qualcosa ma un organismo aperto a tutti su base volontaria per promuovere buone pratiche e garantire la salute dei cittadini naturalmente si occuperà anche del presidio ospedaliero per il quale in questi mesi il comune si è impegnato attivamente ma tratterà anche e soprattutto della salute in generale ad esempio attraverso riflessioni e proposte sui servizi territoriali sull'ambiente e la qualità della vita e su iniziative rivolte alla prevenzione alla guida dell'osservatorio è stato chiamato il dottor Mino Orlando già primario del pronto soccorso a San Giacomo di Novi e componente del consiglio di amministrazione del CSP il consorzio servizi alla persona l'atto sia simbolico che concreto della nascita dell'osservatorio è avvenuto presso la biblioteca civica dove si è parlato di sanità in un incontro aperto a tutta la cittadinanza la manifestazione è stata aperta dall'intervento dell'assessore regionale alla sanità Antonio Saitta ed è servita a presentare ufficialmente l'osservatorio comunale sulle salute il nuovo strumento a disposizione dell'amministrazione comunale che si occupa appunto di questioni inerente alla salute pubblica noi riteniamo che bisogna avviare delle buone pratiche per garantire la salute ai cittadini a cominciare dalla prevenzione dalle qualità della vita dalla cura dell'ambiente e quindi l'osservatorio sulla salute vuole essere tutto questo non un comitato contro ma un osservatorio un gruppo di cittadini volontari che vuole promuovere appunto pratiche buone per la salute e come amministrazione comunale appunto vogliamo intraprendere questa strada e io credo che la partecipazione di questa sera sia un buon avvio Certamente c'è la necessità che l'amministrazione comunale si ponca l'esigenza di rappresentare la domanda di salute dei cittadini e di verificare come concretamente le strutture sanitarie in termini molto ambi sono in grado di dare questa risposta Devo dire che questo è un progetto fortemente innovativo per me è anche un'occasione questa sera di capire concretamente come questa esperienza si possa sviluppare e trarre anche qualche utile considerazione anche perché un progetto di questo tipo possa essere esteso nell'intera regione Piemonte è un modo diverso con cui gli amministratori comunali si poncono il problema della salute normalmente si partecipa a qualche assemblea organizzata dal direttore generale si segue qualche vicente invece osservare la domanda della salute vuol dire farsi carico direttamente con continuità dalla domanda dei cittadini e delle nostre comunità L'ospedale San Giacomo di Novi si è distinto ancora una volta per solidarietà ieri sono stati parenti di un signore 78enne di Arquata Scrivia deceduto a causa di un'emorragia cerebrale a dimostrare sensibilità verso la sofferenza di altre persone acconsentendo al prelievo degli organi del loro congiunto subito dopo il decesso si sono attivate le procedure previste ed è iniziato il periodo di osservazione a cura della commissione medica in tarda notte trascorso il periodo di osservazione l'equip di strumentisti del blocco operatorio si è preparata per accogliere gli specialisti del centro trapianti delle molinette di Torino diretto dal professor Salizzoni allertati dal coordinamento regionale per i prelievi d'organo che hanno proceduto immediatamente al prelievo del fegato mentre i reni sono stati prelevati dagli urologi del San Giacomo al termine dell'impegnativo intervento fegato e reni sono partiti alla volta di Torino dove sono già stati trapiantati con successo a pazienti che da tempo erano in lista d'attesa e che da oggi possono guardare al futuro con maggiore serenità cambiamo argomento parliamo ora del preoccupante fenomeno del gioco d'azzardo e delle ludopatie in generale ad Alessandria è stato organizzato un ciclo di incontri rivolto agli insegnanti degli istituti superiori di secondo grado nell'ottica di prevenire questa piaga sociale la provincia di Alessandria è al secondo posto nella classifica del fatturato ottenuto attraverso il gioco d'azzardo con 550 milioni di euro il dato è del 2012 e con una spesa pro capite di 1370 euro è partendo da questi numeri che l'assessorato alla coesione sociale del comune di Alessandria con il contributo della provincia ha promosso un ciclo di incontri di formazione sul gioco d'azzardo e sulle ludopatie rivolto agli insegnanti degli istituti superiori di secondo grado l'iniziativa è stata definita in alcuni incontri svoltisi con gli operatori del CERT dell'ASL di Alessandria e i volontari di Libera ha dichiarato l'assessore Mauro Cattaneo soggetti che saranno parte fondamentale per l'attività di formazione il ciclo si è già svolto su due giornate presso l'istituto scolastico Saluzzo di Alessandria e tornerà ancora dopodomani 26 febbraio con due diversi momenti di approfondimento il primo sarà rivolto agli insegnanti di matematica e si baserà sull'attività del gruppo di lavoro Beat on Math del Politecnico di Milano che ha elaborato un percorso innovativo di insegnamento delle probabilità e di giochi matematici come antidoto dell'abuso del gioco d'azzardo il secondo sarà invece rivolto agli insegnanti di tutte le discipline e sarà centrato sulla dimensione del fenomeno delle ludopatie e sull'approccio con gli studenti in un'ottica di prevenzione il corso è la prima iniziativa che emette in atto le azioni proposte dalla Commissione Comunale per la promozione della cultura della legalità presieduta da Roberto Massaro abbiamo pensato a un'iniziativa che rappresenti un'occasione indiretta per sensibilizzare e informare gli studenti sui rischi legati al gioco d'azzardo e sulle patologie che ne possono derivare ha detto ancora l'assessore Mauro Cattaneo più avanti c'è l'intenzione di rivolgersi direttamente agli studenti e proporre un concorso volto a produrre degli elaborati sul tema del gioco d'azzardo patologico il decreto del ministro Maurizio Martina sulla semplificazione dell'agricoltura interessa oltre un milione e mezzo di aziende agricole meno burocrazia significa maggiore risparmio e redditività a questo proposito un convegno è stato organizzato da Confagricoltura all'Università di Alessandria titolo Agricoltura 2.0 sono intervenuti tra gli altri il vice ministro Andrea Olivero e il presidente nazionale di Confagricoltura Mario Guidi c'era per noi De De Vinci l'agricoltura italiana deve mettersi in linea con quella dei cugini francesi questo è il concetto principale che è venuto fuori dal convegno che si è tenuto all'Università degli Studi del Piemonte Orientale di Alessandria organizzato da Confagricoltura Alessandria il tema principale era la semplificazione come elemento di competitività a parlarne anche il vice ministro per le politiche agricole e forestali Andrea Olivero così come Mario Guidi presidente nazionale di Confagricoltura ospitati da Luca Brondelli presidente di Confagricoltura Alessandria ancora Giorgio Ferrero assessore all'agricoltura della regione Piemonte e poi c'erano Ezio Costigliole presidente di Ismea e Sebastiano Barisoni, vice direttore di Radio 24 una discussione, una presentazione abbastanza diciamo importante non solo per Alessandria ma per un milione e mezzo di aziende agricole in Italia questo sull'amplificazione siamo col vice ministro Andrea Olivero sì, è un momento importante per l'agricoltura italiana noi abbiamo usato un'espressione agricoltura 2.0 per dire che stiamo lavorando con un progetto però molto concreto non sono slogan per andare a una semplificazione strutturale delle modalità di relazione del mondo agricolo con la pubblica amministrazione noi abbiamo intenzione di andare nel giro di pochi mesi a ridurre in maniera veramente consistente quello che è il sistema burocratico e il rapporto tra le aziende e lo Stato lo renderemo sempre meno cartaceo e invece è legato alla possibilità di utilizzo oggi delle infrastrutturazioni di tipo informatico che hanno ormai un'efficienza e una capacità anche di rispondere ai bisogni molto molto puntuale l'agricoltura ha bisogno oggi di un'iniezione di fiducia e questo deve portare anche uno Stato più efficiente e più capace Mario Guidi che è il presidente nazionale di Confagricoltura questa semplificazione questa agricoltura 2.0 quindi è un passo importante per l'agricoltura sì e vuole anche essere un messaggio la semplificazione come elemento di competitività abbiamo costruito un welfare agricolo uno Stato agricolo che è sovradimensionato è troppo pesante per la necessaria velocità delle imprese in un mondo sempre più competitivo per competere nel mondo serve semplificazione e serve anche un messaggio di forte cambiamento di discontinuità rispetto al modo con cui abbiamo interpretato l'agricoltura che non è un settore certo marginale ma un settore portante dell'economia del paese dal punto di vista economico e significherà anche un notevole risparmio per diciamo coloro che applicheranno risparmio economico per le aziende che possiamo contabilizzare in qualche decina di milioni di euro ma soprattutto un'efficacia un alleviare la fatica del mondo agricolo che passa più di 100 giornate all'anno negli uffici noi abbiamo bisogno di stare in campagna abbiamo bisogno di produrre abbiamo bisogno di dedicarci alle nostre produzioni tra poco lo sport calcio con la grande notte della Juventus questa sera impegnata contro il Borussia Dortmund per quanto riguarda la Champions League a Torino poi il meteo e le notizie utili grazie per averci seguito arrivederci alle prossime edizioni grazie a tutti